Martedì sera Apple ha rilasciato la versione finale di iOS 11. Se per qualche motivo volete fare il downgrade dopo aver aggiornato, vi conviene approfittarne adesso finché Apple mantiene firmato iOS 10.3.3. Dovete collegarvi al sito presente nella descrizione del video, cioè ipsv.me. Dovete selezionare il dispositivo ed il modello al quale volete fare il downgrade e dopodiché dovete selezionare il file ipsv di iOS 10.3.3. Vedrete che è ancora firmato e quindi è utilizzabile per il downgrade. Una volta scaricato, spostatelo qua sulla scrivania. Bisogna semplicemente tenere premuto il tasto d'accensione più il tasto home per 10 secondi. Una volta trascorsi i 10 secondi bisogna mollare il tasto d'accensione, ma continuare a tenere premuto il tasto home, fino a quando iTunes non ci mostra un messaggio dove ci avvisa del fatto che è stato rilevato un dispositivo in modalità di recupero. A quel punto potete anche mollare il tasto home. Se lo volete fare su un iPhone 7 o 7 Plus, al posto del tasto home va utilizzato il tasto volume menu. iTunes ha rilevato un iPad in modalità di recupero. Facciamo clic su OK. Adesso, se siamo su Mac, come in questo caso, dobbiamo fare clic su ripristina iPad, iPhone o iPod, insomma, tenendo premuto anche il tasto Alt, contemporaneamente. Clic più tasto Alt. Se invece lo state facendo su Windows, dovete fare clic più tasto Shift. A questo punto bisogna selezionare il file IPSV e fare apri. Facciamo ripristino. Adesso bisogna solo attendere che tutto il processo vada a fine. Abbiamo finito. Il downgrade è stato completato. Possiamo fare clic su OK. iOS 10.3.3 Abbiamo fatto quindi il downgrade.